Cominciamo oggi una serie di lezioni non più a carattere storico ma a carattere teorico tematico per così dire, prenderemo in esame alcuni grandi problemi non solo della filosofia ma in qualche modo della cultura novecentesca centrati sempre naturalmente sulla nostra specifica competenza filosofica e ne vedremo il destino nel pensiero del Novecento in qualche modo. Si tratta ovviamente di un lavoro un po' meno obiettivo di quello del raccontare il pensiero di questo o quell'autore e quindi vi avverto di stare attenti nel senso che la presentazione dei principali problemi per esempio come comincerò a fare oggi dell'estetica del Novecento implica già una scelta di questi problemi, vi accorgerete anche pensando alle lezioni passate che alcuni autori che forse avrebbero rilevanza non vengono citati eccetera eccetera ma comunque insomma come sempre nelle ricostruzioni storiche un minimo di non dico di arbitrio ma di scelta critica c'è e quindi vi avviso che si tratta qui più che nelle lezioni passate credo di una prospettiva non proprio arbitraria come spero ma certo personale che deve essere colmata, integrata, guardata come sempre con un relativo sospetto per lo meno. È proprio per questo prima di cominciare a parlare specificamente di come impostare il tema di oggi secondo una prospettiva che a me pare ragionevole ma che può essere contestata e che sarà il tema dell'estetica, del problema del bello, dell'arte nel pensiero del Novecento, prima di venire ad una costruzione teorica più dettagliata io vorrei dedicare un primo punto della lezione a ricordarvi alcuni testi generali di riferimento sulla storia dell'estetica del problema dell'arte con cui potrete integrare sia le notizie che su queste tematiche trovate nell'Enciclopedia Garzanti e al solito alla fine della lezione vi darò un elenco di voci da andare a vedere sia insomma quelle che darò durante questa lezione di oggi. Tenete presenti questi testi di carattere generale che in quanto sono per lo più delle storie dell'estetica hanno anche un carattere più comprensivo, meno partigiano in qualche modo di quello che potrò invece potrebbe essere il tratto di questa lezione dove io cercherò poi di dare i temi che mi sembrano centrali nell'estetica del Novecento. Prendiamo dunque alcuni testi complessivi di storie dell'estetica che credo fareste bene a tenere presenti nel caso che vogliate come dire farvi una prospettiva indipendente da quella del vostro docente. Ne ho portati qui un paio e ve ne citerò altri poi soltanto dando il titolo e l'editore. Anzitutto siccome parliamo dunque oggi di estetica farete bene a tenere presente una storia dell'estetica, quella più sintetica, più recente, più aggiornata, che mi piace di più anche perché è fatta da amici miei per così dire ma insomma ha qualche altra qualità oggettiva, è questa storia dell'estetica di Sergio Givone pubblicata dalla Terza, come vedete non è un volume gigantesco, con la collaborazione tra l'altro per dei saggi specifici sull'estetica contemporanea di Maurizio Ferraris e per l'estetica romantica di Federico Vercellone. Come vedete questo libro è un libro relativamente accessibile come numero di pagine anche perché la storia dell'estetica come disciplina filosofica che si occupa dell'arte e del bello ma soprattutto dell'arte nella modernità è una storia relativamente recente, è vero che c'è una teoria dell'arte e del bello in Aristotele, in Platone, in San Tommaso, però fondamentalmente l'estetica come teoria filosofica specifica nasce nel Settecento, ha una prima grande, ha primi grandi rappresentanti nel senso moderno della parola in Vico e in Kant e poi viene avanti lungo l'Ottocento e il Novecento. Quindi la storia dell'estetica generale comprende certo anche autori antichi ma è una storia che coincide quasi con la storia del pensiero moderno dal Settecento in avanti. Oltre alla storia dell'estetica di Givone un altro testo che vi consiglierei di guardare, questo appunto guardare non ha senso che non dobbiate leggerlo ma potete non leggerlo tutto in una volta perché sono due volumi, eccolo qua, è il trattato di estetica di Michel Dufresne e Dino Formaggio, Dufresne e Formaggio sono due studiosi di estetica, uno francese e un italiano, che hanno abbastanza segnato la teoria dell'arte negli ultimi 30-40 anni e che qui raccolgono una serie di saggi, non solo loro, di vari autori, articolati, il primo, questo volume che vi mostro è intitolato Storia della storia dell'estetica addirittura dai paesi extraeuropei, poi all'antichità greca, al mondo arabo-islamico, eccetera, c'è un indice molto interessante, fino al XX secolo e poi una seconda parte sulle scuole principali di filosofia dell'arte del XX secolo, fenomenologie, esistenzialismo, marxismo, eccetera. E c'è poi un secondo volume che riguarda invece la teoria delle arti, non sto a mostrarvelo identico all'altro, ma insomma è un po' più piccino, dove c'è veramente una specie di generale manuale di tutti i temi, i problemi che vi possono avere in mente parlando di estetica di arte. Prima di passare al secondo punto vi ricordo ancora un altro due o tre libri che sarebbe utile che, non che vedestemi, insomma che dovete tenere presenti per il caso che vi interessi approfondire qualcuno dei temi che abbiamo incontrato riguardanti l'arte nelle lezioni precedenti oppure di quelli di cui parlerò oggi. E cioè questi volumi sono un po' di propaganda per la casa, anzitutto un mio libro intitolato Estetica moderna, che è una lunga introduzione e poi una serie di passi antologizzati appunto da Vico e Kant fino al Novecento. Poi un libro intitolato Estetica di Emilio Garroni, che è uno degli strumenti di studio Garzanti, pubblicato recentemente, e poi un grosso libro di storia della critica moderna, intitolato così di René Welle, uno studioso americano, che racconta la storia soprattutto delle idee della critica letteraria dal Settecento in avanti, ma dove ci sono gran parte dei temi dell'estetica filosofica, della teoria delle arti di tutti questi ultimi due secoli. Coloro tra voi che abbiano interesse ad approfondire in modo autonomo anche rispetto a me, anzi soprattutto rispetto a me, le tematiche dell'estetica, tengano presenti questi libri, potranno trovare lì qualche cosa di interessante. Ma adesso veniamo al corpo della lezione, messa a posto la preoccupazione di obiettività, vi ho detto se non credete a quello che vi dico provate ad andare a vedere questi libri, è vero che ve li ho indicati io, ma sono un po' più obiettivi forse di quello che posso essere io, anche per via dello spazio e del tempo ristretto che abbiamo per parlare di queste cose. Messa a posto la nostra coscienza di studiosi obiettivi, veniamo a una presentazione che io credo abbastanza completa, ma certamente non comprensiva di tutto, di quelli che a me paiono i temi più importanti, anche al di là di una concezione diciamo specialistica della filosofia dell'estetica, della problematica estetica del Novecento. Ecco qui il nostro cartello con il sommario. Allora il primo punto l'abbiamo già sviluppato, avremo poi, come dire, raccolto tutto sotto questi tre grandi temi, arte e verità, arte e società, arte e tecnologia. Dunque, perché comincio da arte e verità? Ma anzitutto, e questa è anche la ragione per cui in questa serie di, questa breve serie di lezioni tematiche ho deciso di cominciare dall'estetica, era un po' una scelta casuale, da qualche parte bisognava pur cominciare, la scienza, la religione, la morale, l'estetica, eccetera, e abbiamo scelto l'estetica, ma anche perché probabilmente rispetto a tanti altri campi specifici della filosofia è proprio quello che riguarda il rapporto con le arti il campo che oggi sembra più vivace. Cioè, come abbiamo variamente detto nelle ultime lezioni, i filosofi oggi, molti filosofi oggi si sentono a una situazione di svolto un po' epocale, un po' come se qualcosa di molto importante, di molto decisivo capitasse, non perché nasce una nuova filosofia tra altre, ma perché addirittura è il ruolo, il senso della filosofia stessa che sembra cambiare. Ebbene, diciamo, l'interlocutore con cui spesso i filosofi si trovano a fare i conti oggi quando pensano che la filosofia non sia tutto, eccetera, eccetera, è proprio il discorso per esempio della poesia e della letteratura. C'è un, come dire, uno dei confini critici più trafficati, più difficile da stabilire nel pensiero contemporaneo è proprio quello tra filosofia e poesia o filosofia e arte in generale. Dunque, questo spiega perché in qualche modo sia giusto, utile e opportuno partire dal problema dell'estetica in questa esplorazione dei temi e anche dice perché il primo punto della lezione di oggi è intitolato Arte e Verità. Come cominciare? Beh, abbiamo parlato fin dalla prima lezione di questo corso delle avanguardie artistiche novecentesche. Le avanguardie sono quelle cose, quegli ismi che vengono fuori ogni tanto nella storia della poesia o della letteratura, dell'arte figurativa del Novecento, tutti ve le ricorderete, il futurismo, il cubismo, l'espressionismo, il surrealismo, il dadaismo, l'astrattismo e abbiamo già detto che queste avanguardie, per quanto riguardava il senso generale del nostro discorso sulla filosofia e la cultura del Novecento, avevano il significato di, come dire, di far vedere in modo particolarmente evidente un tratto dello spirito della cultura umanistica dell'inizio del secolo, cioè questa problematica del rapporto dell'anima con le forme rigide della società, con la società che andava organizzandosi razionalmente nell'industria, nella vita sociale, eccetera. Quindi c'era, come dire, un senso di rivolta che appartiene a tutta la cultura umanistica, compresa la filosofia, e che si manifesta anche nell'arte, se ricorderete, se ricordate abbiamo cominciato parlando del libro di Ernest Bloch intitolato allo spirito dell'utopia, che parlava proprio della rivolta delle avanguardie artistiche contro l'omologazione, la razionalizzazione, l'appiattimento dell'esistenza che sembrava imminente a causa della razionalizzazione tecnico-scientifica della società. Oggi però, per quanto riguarda l'estetica in modo specifico, delle avanguardie possiamo parlare anche in un altro senso, e cioè nel senso di una rivendicazione da parte delle arti di una portata di verità. C'è nell'inizio del, insomma nel Novecento, soprattutto nei primi decenni del Novecento, una specie di contrasto tra quello che la filosofia dice dell'arte e quello che le arti dicono di se stesse. La filosofia novecentesca e anche gran parte di quella dell'Ottocento, per quanto riguarda l'arte, rimane a lungo sotto l'influenza delle idee di Kant, idee che sono state poi riprese e anche un po' diluite e banalizzate nell'estetica otto-novecentesca. Secondo queste idee, però, secondo un principio fondamentale di Kant, l'esperienza estetica non ha niente da fare né con l'esperienza teoretica né con l'esperienza morale, cioè quando voi fate arte, quando giudicate qualcosa bella, non dite né se è vera o falsa, né se è buona o cattiva dal punto di vista etico, ma dite semplicemente qualche cosa che non ha da fare né con la teoria né con la pratica nel senso etico della parola. Questa, diciamo, quest'idea di che l'arte non abbia da fare con questi valori di verità o di bellezza, o di bontà, di valore morale, eccetera, ha finito per costruire intorno all'arte una specie di, come dire, di alone, di indipendenza, di autonomia, ma anche di vacuità. È vero che l'arte in tal modo risulta autonoma, non si può dire se, non si può condannare un'opera d'arte perché non dice la verità, non ha nessun senso, oppure non si può condannare un'opera d'arte perché è immorale, forse avete, quando facevo il liceo io c'era sempre il problema, ma possiamo dire che sono immorali le novelle di Boccaccio? No, rispondeva Croce, perché sull'arte non vale il giudizio buono o cattivo, ma vale solo il giudizio bello brutto, eccetera, questo è un altro aspetto in fondo di uno spirito ancora permanentemente kantiano dell'estetica novecentesca. L'arte ha solo da rispondere sulla bellezza o sulla bruttezza, sulla riuscita della forma bella dell'opera o meno. Questo, come dicevo però, agli artisti, soprattutto agli artisti dell'avanguardia novecentesca, non sembra abbastanza serio, non sembra abbastanza, si rivoltano contro questa idea di essere messi in una specie di teca, molto rispettati, sono considerati dei personaggi eccezionali gli artisti, però così eccezionali che poi quando si parla seriamente o di verità o di valore morale, li si lascia da parte. Le avanguardie novecentesche, che oggi si chiamano anche le avanguardie storiche, perché ormai sono roba di 30, 40, 50 anni fa, anzi 60, 70, siamo alla fine del secolo, sono invece abbastanza generalmente caratterizzabili anche come una rivolta contro questa cornice dentro cui l'arte è stata collocata dalla cultura e dall'estetica corrente. Non vogliono, diciamo, accettare che l'arte non abbia da fare con la verità. Allora, se voi pensate, per esempio, al cubismo, al futurismo, che si pongono il problema, che fanno quelle figure apparentemente un po' disturbanti, effettivamente, le Mademoiselle Davignon di Picasso non sono proprio quello che voi vi augurereste, non hanno i tratti di una ragazza che vi potrebbe interessare guardare, insomma, hanno delle facciacce un po' come al mess e così le cose rappresentate dai futuristi con tutte queste superfici una dopo l'altra, perché cosa fanno costoro? Si sforzano di rappresentare il movimento o di cogliere la composizione delle varie prospettive davanti in cui l'oggetto si presenta, cioè si impegnano non a fornire dei prodotti decorativi piacevoli da vedere, ma a fornire delle opere più vere dell'esperienza immediata o di quella che ci dava l'arte tradizionale nelle sue forme un po' schematiche, eccetera. E questo vale in misure diverse per l'espressionismo, per Dada, per il surrealismo soprattutto. Ebbene, questo discorso sull'arte come esperienza di verità, la filosofia lo trova fatto piuttosto nelle arti, nelle avanguardie, ma è per lo più lo ignora. Croce, per esempio, sembra piuttosto dal lato di un mantenimento dell'opera d'arte nei confini del problema bello brutto, niente vero, niente falso, niente buono, niente cattivo. Ma ci sono alcune filosofi, dei quali abbiamo parlato nelle lezioni passate, che invece hanno a cuore questo problema dell'arte e della verità. Anzitutto, per quanto riguarda diciamo la rivolta dell'arte contro questi limiti che gli sono imposti, un filosofo di cui abbiamo parlato non tanto a fondo in una lezione passata, che ha centrato la sua attenzione su questo, dando questa specifica interpretazione dell'avanguardia, è Theodor Wiesengrund, Adorno. Ecco qui il suo viso che abbiamo già forse incontrato nelle lezioni passate, il dato di nascita e di morte. Adorno ha pubblicato tra le sue, l'ultima opera che ha scritto, che stava finendo di rivedere quando è morto nel 1969 e che infatti è poi uscita nel 1970, intitolato Teoria Estetica. E nella Teoria Estetica ci sono le basi per questa concezione dell'avanguardia, delle avanguardie artistiche, come di movimenti che si rivoltano a starsene tranquillamente dentro una cornice rispettata ma neutralizzata dell'arte. Il primo paragrafo della Teoria Estetica di Adorno è intitolato L'ovvietà dell'arte andata perduta. Cioè l'arte, la vera arte, diciamo così, dal punto di vista di Adorno nel Novecento non può produrre opere se non mettendo anche in discussione il proprio stato, la propria situazione, la propria collocazione storica, sociale, culturale. Non si può lasciare, l'arte non vuole lasciarsi collocare in una cornice prestabilita che è quella della tradizione estetica sette-ottocentesca che dice che l'arte ha da fare col bello e col brutto ma non col vero e col falso, eccetera, eccetera. Questo è molto importante perché di qui Adorno ricava una quantità di conseguenze di tipo anche critico, cioè gli artisti che lui valuta di più nella contemporaneità sono quelli che producono opere che disturbano, che danno a pensare. Del resto appunto nell'arte d'avanguardia succede spesso che voi trovate, che so, andate in un museo e trovate per terra delle pietre e magari ci passate sopra e poi scoprite che erano un'opera esposta. C'è in fondo un cartellino dice opera di pietre sparse del tale autore. Le opere vere, insomma le opere d'arte autentiche del Novecento secondo Adorno sono quelle che richiamano l'attenzione non solo per la loro perfezione formale o forse neanche più per la loro perfezione formale ma per gli elementi di inquietudine che ci forniscono anche e soprattutto quanto al che cosa sia l'arte. Tanto è vero che spesso i filistei, coloro che rifiutano la novità e soprattutto nei confronti delle vanguardie artistiche, dicono ma questo non è arte. Già, punto. Ma l'arte d'avanguardia del Novecento ha tra i suoi caratteri il fatto di porsi il problema di che cosa diavolo è l'arte in generale, non solo di fare una bella opera. E questo è un modo in cui diciamo l'arte anzitutto rivendica una portata diversa da quella della pura decorazione, del puro starsene tranquillamente appesa ai muri dei salotti o nei musei, nelle gallerie, nelle sale da concerto, vuole essere altro. Un primo modo in cui la filosofia del Novecento risponde a questa volontà dell'arte di contestare i limiti estetistici, per dire così, in cui la rinchiusa alla filosofia tardottocentesca e prima novecentesca, un primo modo è quello di ritrovare l'arte come esperienza di verità. Qui ci soccorre un altro filosofo di cui abbiamo già parlato, senza fermarci molto su questo punto, che è Hans-Georg Gadamer, eccolo qui, il maestro heidelberghese nato nel 1900 e autore di un libro intitolato, ve lo ricordo perché ne abbiamo già accennato, Verità e metodo, che comincia proprio con la rivendicazione del valore di verità dell'esperienza estetica. Ma cosa vuol dire che quando incontriamo un'opera d'arte facciamo un'esperienza di verità? Non certo che quando leggiamo una poesia poi la volgiamo in prosa e diciamo ecco qui, il poeta dice che questo è vero, perché i poeti poi non è che dicano delle cose terribilmente originali, l'uomo è mortale, o come era bella la primavera quell'anno, Silvia, rimembri ancora. Se volgiamo in prosa le grandi poesie che conosciamo, le grandi opere d'arte di ogni tipo che conosciamo, probabilmente il contenuto di enunciazioni che ne caviamo non è granché, eppure resta vero secondo Gadamer che l'arte ci dà un'esperienza di verità, ma come? Per capirlo dobbiamo pensare a come un'opera ci cambia nel nostro modo di vedere il mondo. E questo è già un po' più comprensibile, cioè si può dire che secondo Gadamer l'arte è esperienza di verità in quanto è vera esperienza. Noi diciamo ho fatto davvero un'esperienza quando ci è capitato qualcosa, talvolta anche di spiacevole, che però ci ha cambiato le carte in tavola, ci ha cambiato tendenzialmente la vita, ha cambiato il nostro modo di vedere il mondo. Ebbene, l'arte è esperienza di verità in quanto è una vera esperienza in questo senso, cioè non è che ne caviamo degli enunciati che poi rimettiamo e dice hai imparato anche questo, però leggendo un grande romanzo, frequentando un grande poema, vedendo un grande film, conoscendo un grande pittore, eccetera, c'è qualcosa nel nostro mondo, nel nostro modo di vedere il mondo che muta. L'opera si presenta come in qualche modo un'altra prospettiva sul mondo, un'altra visione del mondo. Gadamer, quando teorizza queste cose, si richiama anche a un altro grande filosofo che abbiamo già incontrato nel corso delle lezioni precedenti, e cioè Martin Heidegger, rieccolo qui, il filosofo della Selva Nera, il quale nel 1936 pubblicò un saggio, tenne una conferenza che poi venne stampata in un libro di un po' di anni dopo, intitolato L'origine dell'opera d'arte, un saggio molto denso, anche molto complicato, che ha una grande importanza nello sviluppo del pensiero di Heidegger, ma che per quanto ci riguarda possiamo ricordare almeno per questo. Lì c'è la tesi nel saggio del 1936 di Heidegger, secondo cui l'opera d'arte apre un mondo, inaugura un mondo, fonda un mondo. Immediatamente una tesi come questa fa un po', sembra fare un po' rabbrivedire, ma cosa vuol poi dire? Se pensiamo soprattutto a certi, non so, un sonetto, una breve poesia, una piccola composizione di musica barocca, un concerto grosso di Vivaldi che somiglia ad altri concerti grossi di Vivaldi, come fa a aprire un mondo? Intanto bisogna dire che Heidegger pensa anzitutto a certe grandi opere d'arte che effettivamente hanno avuto delle funzioni fondanti nella storia di certe grandi culture, delle culture. Per esempio i greci dell'età preclassica e ancora nell'età classica si formavano studiando certi poeti, Omero, Esiodo, i tragici. La civiltà europea cristiana, ebraico-cristiana, si è formata dove? Studiando un testo principale che è la Bibbia e la Bibbia è poi un libro. Ma poi si dice, non so, che Lutero traducendo la Bibbia in tedesco ha fondato il tedesco moderno. Noi abbiamo nella nostra storia letteraria certi autori come Dante a cui riconosciamo, come dire, una funzione inaugurale rispetto alla lingua, però una lingua non è soltanto un insieme di parole, è anche un insieme di strutture linguistiche, di modi di vedere il mondo, eccetera. Ora, in questo senso, anzitutto, Heidegger parla dell'opera d'arte come apertura di un mondo. Soprattutto l'opera d'arte poetica, come dire, inaugura un linguaggio, delle metafore, dei modi di descrivere la realtà che poi diventano condizione di esperienza del mondo per un sacco di gente che parla quella lingua, si ricorda quelle poesie, eccetera. Del resto, se pensate al modo come noi facciamo esperienza, per esempio, della natura, quando dichiariamo bello un panorama naturale, ci incantiamo di fronte a questo o quello, è poco verosimile che lo guardiamo con occhi vergini, come il primo uomo che lo veda, ma lo guardiamo riportando inconsciamente in noi poesie che ne parlavano, quadri che abbiamo visto, film, fotografie, eccetera. C'era, credo, Federico Zeri che una volta diceva che in genere le persone che dicono di aver avuto un'apparizione di un santo, di una figura divina, in qualche modo, per esempio, chi ha un'apparizione della Madonna, in genere la vede vestita come è vestita nei quadri del Rinascimento. Difficilissimo che qualcuno dica di aver visto la Madonna vestita come una signorina di New York del 1980. E questo perché? Perché anche quelle esperienze mistiche lì, straordinarie, poi niente affatto da prendere in giro probabilmente, ma certo sono condizionate da certi archetipi visivi, da certi modelli visivi, linguistici, eccetera, che sono quelli correnti. Noi effettivamente le Madonne le abbiamo viste soprattutto nelle arti nei pittori del Quattrocento, del Cinquecento, dell'età moderna, eccetera. Difficilmente appare una Madonna negra, una Madonna appunto modernista, ultramoderna, vestita eventualmente come Madonna, che non c'ha niente da fare, ovviamente, con la Santa Vergine. Ebbene, in questo senso, anzitutto, Heidegger parla dell'opera d'arte come apertura ad un mondo, mondo. Ma e le opere d'arte minori, appunto il sonnetto, la sonatina, il concerto grosso o meno grosso? Ebbene, anche queste, nella misura in cui ne facciamo un'esperienza estetica autentica, direbbe Heidegger, ci offrono non soltanto dei pezzi di mondo che si aggiungono ad altri, ma affettano, toccano, modificano in qualche modo la nostra maniera di vedere il mondo, come se incontrassimo un'altra persona che ha una visione del mondo diversa dalla nostra con cui dobbiamo entrare in dialogo. In genere le persone non stanno nel mondo semplicemente come degli oggetti, stanno nel mondo ma anche rappresentano una visione del mondo con cui ci dobbiamo misurare. E' per questo che un altro filosofo di cui abbiamo ora parlato, che è uno dei due autori del trattato di estetica che ci davo prima, Michel Dufresne, in un suo libro del 1953 intitolato Fenomenologia dell'esperienza estetica, ha parlato dell'opera d'arte come di un quasi soggetto, cioè di qualcosa nel mondo che ci appare e si presenta come altra visione sul mondo e non soltanto come una parte del mondo. Se vogliamo completare questo discorso del secondo punto su arte e verità, dobbiamo riferirci ancora ad un autore italiano a cui io sono molto legato perché è stato il mio maestro all'Università di Torino, che è Luigi Pareson, nato nel 1918 e morto pochi anni fa, abbastanza prematuramente, il quale ci aiuta a capire la portata ontologica, diciamo così, cioè il significato d'essere che ha l'opera d'arte, non soltanto come un oggetto prodotto da qualcuno che riesce a far attirare l'attenzione, a vendere dei quadri, eccetera, ma come qualcosa di fondamentalmente che impegna, che è un evento che riguarda l'essere non solo l'individuo, non solo il buon gusto, il cattivo gusto, eccetera. In questa, nell'opera intitolata Estetica, teoria della formatività di Pareson del 1954, ci sono, come dire, degli elementi importantissimi per capire perché e come l'opera d'arte ha questa funzione di aprire un mondo. Pareson, chiama formatività in quell'opera, il fare che inventa sia il modo di fare che il da farsi. Cioè, diciamo, saltando alcuni passaggi che potrete vedere se darete un'occhiata ai testi di Pareson, la formatività è un evento in cui nasce un oggetto come l'opera d'arte il quale non è richiesto da nessuna legalità istituita precedentemente. Voi non vi domandate come mai non c'è la decima sinfonia di Beethoven. Ce ne sono nove e basta. Non c'è nessuna, per quanto riguarda l'arte, non c'è nessuna norma o esigenza precedente all'esistenza dell'opera. Quindi l'opera sembra una cosa di tutto arbitraria, qualcuno la crea dal niente. Sì, però l'artista mentre fa l'opera d'arte, mentre costruisce la sua opera, ogni tanto cancella, correggia, butta via, si dispera, talvolta si suicida persino perché non è riuscito. Ma se era tutto, se dipendeva tutto da lui, se l'opera fosse totalmente arbitraria, perché mai tutto questo correggere, questa preoccupazione di seguire una qualche normatività? E perché nell'opera accade qualche cosa, accade l'istituirsi di un modello di esistenza, di un modello di mondo in cui certo l'autore è l'autore, la inventa, ma nell'inventarla incontra anche qualche cosa di più denso. Questo è una teoria che riprende, insomma, rilegge, interprete in maniera originale e diciamo anche più plausibile una quantità di elementi dell'estetica che provengono anche dal romanticismo dei secoli XVIII e XIX della nostra cultura, ma che davanti, diciamo, al relativo miracolo della nascita dell'opera d'arte si rende conto che è certo in gioco l'individualità dell'artista, i gusti della gente che riceve l'opera, il committente, ma che c'è qualche cosa d'altro che in qualche modo ha da fare con la realtà, con l'essere stesso e che spiega o è un altro modo di teorizzare quella portata inaugurale fondativa che Heidegger, Gadamer, eccetera, riconoscono all'opera d'arte. Veniamo adesso al terzo punto del nostro schema che è intitolato Arte e società. Oltre che, diciamo, ripartiamo sempre da quel nocciolo che abbiamo riconosciuto nell'avanguardia artistica, l'avanguardia esplode fuori dai limiti convenzionalmente attribuiti all'arte e pretende di avere una portata diversa, di verità, di storicità, di inaugurare dei mondi, eccetera. Ebbene, un altro modo di interpretare questa esplosione dell'avanguardia artistica fuori dai confini dell'arte è stato quello di coloro che hanno visto l'arte come un elemento, un agente attivo nella trasformazione dei rapporti sociali. Uno dei, diciamo, gli artisti del resto di fine ottocento e primo novecento avevano cominciato a produrre, già da prima, insomma, nel corso dell'ottocento, questo è uno dei sensi del romanticismo nelle arti, e avevano cominciato a produrre le loro opere non più in riferimento a un mondo determinato. Bach, per esempio, voi sapete, era maestro di cappella di una corte tedesca, Mozart anche scriveva, per così dire, su commissione, cioè c'era una committenza determinata che diceva vorrei un concerto per le nozze di, i concerti brandeburghesi sono nati così, eccetera. Ebbene, nell'ottocento, a causa della trasformazione, per esempio, la stampa, la diffusione, i mezzi di diffusione delle opere d'arte che si erano intensificati, moltiplicati, l'artista produce più verso un mondo, verso una committenza, verso un pubblico che non è tanto determinato e che non gli dà norme precise, non gli presenta esigenze, richieste, eccetera, lo lascia relativamente libero, tanto è vero che l'artista spesso si sente socialmente sradicato. Il bohemian, cioè lo zingaro, cioè quello che viene dalla bohemia, che non ha un luogo sociale preciso, è spesso l'artista. E questa retorica della bohème è del tardo ottocento e gli artisti si sentono spesso identificati con queste figure che non hanno luogo nel mondo, che sono tutti dati al proprio destino di artisti, alla propria ispirazione, eccetera. Ma questa idea del bohemian si trasforma però anche talvolta in un rifiuto delle strutture sociali convenzionali. L'artista non è solo bohemian spesso perché è uno che non risponde a nessuno, fa delle cose di cui siccome non c'è un gran bisogno, non ha un mestiere, non va in ufficio tutte le mattine. Talvolta l'artista si sente bohemian anche perché non gli piace il mondo in cui vive, non gli piace il mondo in cui l'artista deve essere un produttore di opere decorative, eccetera, e quindi si ribella, come già abbiamo visto nel primo punto, all'inquadramento dell'arte in una cornice neutralizzante, eccetera. La ribellione dell'artista si concreta anche talvolta in una rivolta di tipo sociale e politico. È la storia dell'arte impegnata, come l'abbiamo imparata a conoscere, l'arte angagée, i rapporti delle varie scuole artistiche del Novecento con i movimenti rivoluzionari, uno degli ismi, uno delle vanguardie a cui ho alluso prima, il surrealismo che si sviluppò soprattutto a Parigi negli anni 20 e 30, ebbe dei rapporti espliciti, anche burrascosi, con il partito comunista francese di quegli anni. Dapprima appunto molti surrealisti aderirono al partito comunista, poi via via che in Unione Sovietica si consolidava il regime staliniano e dunque anche i caratteri rivoluzionari dell'arte venivano un po' messi da parte a favore di un'arte un po' più retorica che illustrasse al popolo gli ideali del socialismo, che quella è stata poi quella che si è chiamato il realismo socialista. I surrealisti via via entrarono in polemica con il partito comunista e se ne staccarono. Però appunto questa è una vicenda che ha riguardato come il surrealismo anche altre avanguardie artistiche. Il futurismo ebbe profondi rapporti con le idee del fascismo in Italia e con le idee del marxismo-leninismo in Unione Sovietica fino a un certo punto. E poi anche lì se ne staccò per ragioni di, come dire, quando la rivoluzione diventa regime per lo più l'avanguardia artistica viene messa da parte e questa è una storia che si è sempre di nuovo ripetuta appunto soprattutto per i rapporti tra avanguardie e comunismo realizzato nel mondo contemporaneo. Uno dei grandi teorici, filosofi, teorici del rapporto tra arte e trasformazione sociale in senso comunista è Giorgio Lukács, un filosofo ungherese morto nel 1971 che non fu mai, a dir la verità, un teorico di quello che poi si chiamò il realismo socialista, cioè dell'arte ufficiale delle società sovietiche, però certamente fu sempre profondamente critico dell'arte d'avanguardia. Lukács pensava che l'arte fosse una forma di rispecchiamento del reale che funziona in senso rivoluzionario perché rispecchi il reale criticamente. Si potrebbe parlare per Lukács di un realismo critico in qualche modo come ideale dell'arte. L'arte imita la realtà ma non si limita a riprodurla, ne fa vedere le contraddizioni intime, i suoi, diciamo, l'ideale dell'arte per Lukács sono forse certi grandi romanzi dell'Ottocento e del Novecento come quelli di Balzac o quelli di Thomas Mann dove si rappresenta il mondo borghese che noi conosciamo nella nostra società ma lo si rappresenta anche mostrandone le tensioni, mostrandone le contraddizioni e questo serve alla rivoluzione. Questo fa capire perché Lukács da un lato non fosse un teorico totalmente succube della visione del realismo socialista ufficiale degli anni di Stalin e dall'altro come non potesse amare romanzieri come Kafka o Joyce perché per lui questo era già un tale modo di raccontare non più realistico, disfatto, poco rispecchiante una realtà riconoscibile che non aveva più nessuna portata critica e infatti lui considerava tutta questa roba come decadenza. Però Lukács è, diciamo, se vogliamo parlare di come il problema del rapporto dell'arte col mondo si articola nel senso di uno sforzo di verità, di trasformazione sociale, Lukács è l'autore a cui bisogna riferirsi. Ci sono dei grandi saggi di storia letteraria, soprattutto di Lukács, che restano ancora essenziali oggi anche se molte delle sue idee generali sull'arte e sull'estetica sono diventate obsolete per molti di noi. L'autore che forse ha più realizzato un programma di arte critica della realtà ma anche molto riuscita esteticamente è Bertolt Brecht, eccolo qua, Bertolt Brecht che ha scritto soprattutto delle pièce di teatro, è un autore di teatro. Brecht è rimasto famoso per quanto riguarda la teoria, per la sua distinzione tra arte, tra teatro epico e arte gastronomica. Il teatro epico per lui è quel teatro, lo chiama epico per riferirsi ad un tipo di poesia più discorsiva e meno rappresentativa di quella a cui siamo abituati. Il teatro epico è quello dove lo spettatore non si perde mai nella magia della scena ma viene continuamente richiamato a non prendere per buono quello che succede sulla scena. Se qualcuno di voi ha visto delle messe in scena di opere di Brecht si ricorda che ogni tanto compare uno con un cartello e dice io sono il capitalista tal dei tali. Oppure, insomma, ci sono delle interruzioni continue dello spettacolo in modo che lo spettatore sia richiamato a giudicare ciò che accade e non concepisca lo spettacolo come in fondo era stato un po' sempre sulla linea della poetica di Aristotele dove alla fine della tragedia si capiva tutto e uno si sentiva come tranquillizzato. Questo è quello che Brecht chiamerebbe una fruizione gastronomica dell'opera d'arte. Vedo l'opera, mi pare tutta armoniosa, tutto si concilia, oh che bellezza, me ne vado a casa tranquillo e non faccio la rivoluzione, non mi impegno politicamente, non trasformo il mondo. Se invece vedo le opere di Brecht, pensa Brecht, sono costretto a giudicare, a distaccarmi dalla magia, a non perdermi, a non addormentarmi davanti allo spettacolo e questo giova a fare di me un agente di trasformazione della società nel senso dell'instaurazione del socialismo. Brecht lo conobbe, forse non lo amo tanto, ma insomma sempre il suo teatro si diresse in questa direzione. Un ultimo punto del nostro schema, eccolo qua, rivediamolo, è quello che ho chiamato arte e tecnologia moderna. Qui andremo un po' più velocemente, ma l'autore a cui voglio riferirmi in questo punto della lezione è Walter Benjamin. Ecco qui Walter Benjamin, nato nel 1892, morto suicida, poverino, mentre fuggiva dai nazisti nel 1940, il quale scrisse tra le altre cose, e le altre cose sono molto importanti di Benjamin, ma io ricorderò soltanto questo suo lavoro, scrisse un libriccino che ha una grande, ha un lungo titolo e una piccolissima mole, ecco perché ve lo mostro e spero che qualcuno di voi se lo vada a leggere. Si intitola L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. Questo volumetto che vi mostro tra l'altro comprende anche altri saggi di Benjamin, quindi non è neanche tutto questo libro che è pure piccolo. Ebbene, Benjamin in quest'opera sostiene la tesi che gli strumenti della riproducibilità tecnica delle opere, che sono per esempio la fotografia che ci può rappresentare, ci può dare una fotocopia, una copia tendenzialmente perfetta, perfezionando gli strumenti della gioconda che sta a Parigi, per cui non abbiamo più bisogno di andare a vedere il quadro di Leonardo a Louvre. E questo è uno degli aspetti della riproducibilità, oppure la fonografia ci dà un concerto che ce lo possiamo sentire a casa nostra, anche lì se è stereofonica, se ben registrata, eccetera, eccetera, può essere che sia quasi o tendenzialmente identica all'esperienza che ne facciamo in una sala di concerto, eccetera. Ebbene, da un lato è successo questo nella contemporaneità, sono nati degli strumenti con cui possiamo immaginare di riprodurre abbastanza fedelmente le opere d'arte in modo da togliere la necessità di recarci in un luogo determinato, di andare a vedere l'originale, eccetera. Dall'altro, con gli stessi strumenti sono nate delle arti che sono essenzialmente riproducibili, nessuno pensa di vedere l'originale di un film. Un film nasce per essere copiato, una trasmissione televisiva, sì, come il film è stato girato a un certo punto, così la trasmissione è stata registrata in una certa ora, in un certo giorno, ma in realtà poi la cassetta, il nastro, eccetera, si possono commerciare, non ce n'è uno più autentico di un altro. Ebbene, questo fenomeno, secondo Benjamin, è molto importante perché trasforma essenzialmente, non è soltanto come dire, vabbè, allora la Gioconda, una volta bisogna andare a vedere l'Uvra, adesso ce la possiamo guardare nei libri, oppure avere una riproduzione assolutamente perfetta, tanto che magari qualcun critico non la distinguerebbe, eccetera. Non è soltanto che accade questo, accade che mancando, diciamo, il valore puntuale dell'opera originale cambia, secondo Benjamin, anche il senso complessivo dell'esperienza dell'arte. Secondo lui, fino ad ora, l'esperienza dell'arte è stata un'esperienza che aveva come centro un valore cultuale, una specie di valore attribuito al singolo oggetto come tale, che si trasforma poi anche nel valore commerciale, venale dell'oggetto. Se voi comprate un quadro spendendo miliardi perché vi è stato spacciato per un Rembrandt, poi viene uno con una lettera, un botto, assicuro, assicuro i documenti da cui si vede che quel Rembrandt è stato prodotto l'altro ieri in un posto vicino a Roma, per esempio. Questo quadro perde di valore, eppure avevate documenti, l'avete investito con una carica affettiva che erano come quello per il Rembrandt vero, c'erano dei critici che giuravano che era autentico. Cosa è cambiato qui? Benjamin direbbe che qui è cambiato soltanto il valore venale dell'opera, giacché in fondo la verità del Rembrandt, ammesso che riusciamo a riprodurlo per esempio in cento copie fedelissime, è quello e basta. È in tutte le copie, non c'è un valore dell'originale laddove le copie siano possibilmente identiche all'originale. Il valore dell'originale rimane soltanto una specie di valore di feticcio, di feticcio è come se fosse un idolo, una specie di valore superstizioso che poi nella nostra società coincide più o meno col valore economico dell'opera, l'autentico vale di più eccetera. Benjamin pensa che togliendo tutto questo che lui chiama l'auro, il valore cultuale dell'opera, l'esperienza estetica si trasformi profondamente e che noi di questo dobbiamo tener conto per capire che cosa è diventata l'arte, che cosa può diventare l'arte nella nostra società e che cosa può diventare secondo Benjamin? Beh può diventare qualcosa di più comune, di praticato da tutti, dove per esempio non ci sia più una distinzione così netta tra l'artista e lo spettatore. Il cinema secondo Benjamin dava luogo, questo saggio del 1936 e quindi già abbastanza avanti nella storia del cinema, poteva dar luogo secondo Benjamin al fatto che tutti diventassero capaci di usare una macchina alla presa, come tutti ormai erano capaci di usare una macchina fotografica e cioè si affacciava dietro a quest'idea diciamo di una trasformazione essenziale dell'esperienza estetica attraverso la tecnologia, si affacciava in Benjamin il vecchio sogno marxista, in fondo di Marx, marxiano, perché poi Benjamin quando scriveva questo saggio era, si era convertito al marxismo, il vecchio sogno di Marx di una morte dell'arte come fenomeno specialistico, non che l'arte non ci debba più essere, l'espressione morte dell'arte l'aveva usata per la prima volta Hegel quando diceva che ormai nella nostra epoca l'arte era un fenomeno del passato e che la verità dello spirito si manifestava nella filosofia. Marx aveva pensato che fosse giusto pensare alla morte dell'arte ma solo perché doveva finire la divisione del lavoro, doveva finire il fatto che l'arte come con un'altra espressione di Hegel fosse una domenica della vita che però accadeva soltanto ogni tanto mentre tutta la realtà era brutta, difficile, angosciosa eccetera, ogni tanto tiravamo sulla testa per vedere la domenica della vita. No, diceva Marx, trasformando profondamente la società, eliminando la divisione del lavoro, lo sfruttamento, il plus valore, tutte le cose che ha profetizzato Marx, elimineremo anche la divisione tra l'attività artistica e l'attività comune. Sarà possibile avere un giorno, uno che la mattina fa l'operaio, il pomeriggio dipinge, nel tardo pomeriggio va a pescare, la sera suona i suoi strumenti. Cioè l'idea di una liquidazione dei confini tra l'arte e la vita quotidiana, tra il bello e l'esistenza quotidiana. Questo l'aveva in mente Benjamin, questo non si è verificato finora con l'uso dei mezzi di comunicazione, dei mezzi di riproduzione con le arti riproducibili. Ciò che è accaduto e non dimenticate appunto che Benjamin è morto nel 1940, ciò che è accaduto è stato piuttosto come dire una sorta di generale livellamento dell'esteticità nella confezione. L'altro autore che ho citato prima, che era anche come Benjamin un esponente della scuola di Francoforte e cioè Adorno, è stato un critico acerrimo sia di questa idea di Benjamin sia dell'estetizzazione generale dell'esperienza che avviene per esempio attraverso la televisione, il cinema, la pubblicità e cioè secondo Adorno e forse anche secondo Benjamin se fosse sopravvissuto fino ad oggi, ciò che stiamo vedendo attraverso la tecnologia, i mezzi di comunicazione di massa, la riproducibilità dell'opera d'arte è piuttosto una perdita del significato autentico dell'arte in una sorta di grande avvenimento pubblicitario, di grande reclam dell'esistente. L'arte anche secondo Heidegger per tornare a uno dei nostri punti di partenza, in quanto apre un mondo, se mai apre un mondo, cioè se rappresenta un modo di vedere il mondo diverso con cui dobbiamo fare i conti, non può che essere in qualche modo inquietante, non si può mai confondere con la pubblicità, con la tranquillizzazione, con il film hollywoodiano che finisce sempre bene. Se è vera arte probabilmente deve avere ancora qualche elemento di inquietudine critica con cui ci colpisce. Così chiudiamo questa lezione e vediamo lo schema finale. Ecco qui i testi, vi ho ricordato il libro di Givone, il trattato di Vufrenne Formaggio, il mio Estetica moderna del Mulino, l'estetica di Garroni e la storia della critica moderna di Wellek. Per arte e verità ricorderete la teoria di Adorno sull'avanguardia, la verità delle esperienze estetiche in Gadamer, Reidegger l'opera che apre il mondo, Dufrenne quasi soggetto, Parison, l'arte e l'essere. L'avanguardia e la rivoluzione, Luca, serialismo e la grande arte borghese, Brecht, teatro epico contro arte gastronomica. Per il quarto, Benjamin, riproducibilità e fine dell'aura, il sogno del riscatto estetico dell'esistenza arte e inquietudine critica. Per le voci da vedere, Estetica, Adorno, Croce, Gadamer, Heidegger, Parison, Dufrenne, Lukacs e Benjamin. Amin. 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 Amin.